Il sobrio campanile attesta la vetustà della parrocchia del Piglione. I due portali gotici del palazzo di giustizia con mefore dello stesso stile. Ed ora le immagini di alcuni rioni assai antichi e pittoreschi, quali quelli di Camelotta e dello Spirito Santo. La porta ernica di Camelotta. Chi lo ritiene il volto di Cristo? Chi del cardinal Batrasso? Il popolino preferisce chiamarlo la fantasma, cioè il fantasma. I caratteristici sepporti, niente altro che i latini sub-porticus. Le piagge, comuni anche alla toponomastica di altri paesi vicini.